Ok, buonasera a tutti. Io mi chiamo Giuseppe Bianco, sono un astronomo, lavoro per l'Agenzia Spaziale Italiana, con la qualifica di dirigente tecnologo e sono il responsabile del centro di geodesia spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, che è un grande centro di osservazione e di ricerca, del quale vi parlerò nel corso di questa chiacchierata. Questa sera, l'argomento di questa sera è la misura della Terra nello spazio, ove per misura intendo la determinazione sperimentale di alcuni parametri geodetici. Vi parlerò in particolare del lavoro che si fa nel campo della geodesia spaziale e di come, dei risultati che otteniamo noi in Italia attraverso il lavoro svolto al centro di geodesia spaziale di Matera. Tutto comincia da un concetto fondamentale. La forma della Terra. La forma della Terra era, oggi noi lo sappiamo, una forma sferica in prima approssimazione, ma non è sempre stato così. C'è stato un periodo relativamente recente nel quale si pensava che la forma della Terra fosse piatta. Questa miniatura rinascimentale descrive abbastanza bene la cosmogonia dell'epoca, no, questa Terra piatta circondata dalla sfera celeste, al di là della quale ruotavano le sfere immaginate per descrivere il mondo dei pianeti. Ma non tutti sanno che molti anni prima qualcuno aveva già notato, aveva fatto delle osservazioni molto importanti. Questa immagine è un'immagine composta, ripresa in diversi istanti di tempo, di un eclissi di luna, nella quale la luna, il nostro satellite, viene oscurato dall'ombra della Terra. Pitagora aveva notato che il profilo dell'ombra terrestre, così come lo vediamo proiettato sulla luna piena, è giustificabile soltanto ipotizzando una forma sferica della Terra. Questa immagine fa vedere una parte, che io adesso vi sto facendo vedere con la freccia del mouse, una parte dell'ombra della Terra. E già, pensate un attimo, è possibile fare una prima stima delle dimensioni relative tra la Luna e la Terra. Quindi la Terra circa quattro volte il diametro terrestre, circa quattro volte il diametro lunare. Quindi la Terra tonda, quello della Terra sferica, era un concetto che già era dato per scontato, direi, tanti anni fa. Tant'è che qualcuno, Eratostene di Alessandria, per primo misurò sperimentalmente le dimensioni della Terra con un esperimento molto famoso e molto simile alle cose che noi facciamo oggi, utilizzando ovviamente tecnologie aggiornate. Eratostene sfruttò quello che lui pensava fosse la proprietà di parallelismo dei raggi solari e notò che a un certo giorno dell'anno il Sole illuminava il fondo dei pozzi a Siene, in particolare il giorno del sostizio d'estate, a mezzogiorno, il Sole illuminava il fondo dei pozzi a Siene, oggi a Suan, il che significava che il Sole era esattamente sulla verticale di quel posto, ma che nello stesso istante, ad Alessandria d'Egitto, i raggi solari arrivavano inclinati di un angolo alfa rispetto alla verticale. È bastato quindi determinare sperimentalmente la lunghezza dell'arco D e metterlo in proporzione, la lunghezza di quest'arco D, alla circonferenza terrestre, che è la stessa proporzione che c'è tra l'angolo alfa e l'angolo giro di 360 gradi. E l'errore, considerando le unità di misura dell'epoca, l'errore fatto a quel tempo, risultò già essere dell'ordine del 2% rispetto al valore conosciuto oggi. Quindi noi siamo certi del fatto che la Terra sia tonda, e in effetti è quello che noi vediamo dallo spazio. Questa è una famosissima immagine della Terra, ripresa dall'ultimo equipaggio che è andato in un'orbita oltre quella geostazionaria, l'equipaggio dell'Apollo 17, di ritorno dalla Luna, riprese questa immagine del blu marbo, del marbo blu terrestre, che evidenzia la forma praticamente sferica, cosa che non è sufficientemente precisa, perché già Newton aveva ipotizzato che la forma della Terra non potesse essere perfettamente sferica a causa della rotazione della Terra, di cui parleremo tra un attimo. Rotazione che induce, per motivi chiari, una deformazione che è tanto più grande quanto più ci si avvicina all'equatore, lungo la latitudine. Per cui già Newton ipotizzò una forma ellissoidica della Terra, e infatti oggi stesso, oggi noi sappiamo che utilizzare l'ellissoide di rotazione invece che la sfera ci permette di descrivere la Terra con grande precisione, con un errore di qualche parte su 100.000. Quindi già l'ellissoide è una decisione sufficientemente accurata, dipende ovviamente dalle applicazioni che vogliamo farne, della superficie, della forma media della Terra. Gli astrofili in linea stasera sanno bene che questo è un fenomeno comune a tutti i pianeti del Sistema Solare ed è particolarmente drammatico nel caso dei pianeti gasossi, come Giove, Saturno, Uranio e Nettuno, ma in particolare Giove e Saturno, che sono pianetiche fluidi che hanno una veloce rotazione attorno al proprio asse, il giorno di Giove dura meno di 10 ore e quindi l'effetto di schiacciamento polare è ancora più evidente ed è molto visibile anche in un piccolo telescopio. Se però vogliamo fare i conti con precisione ancora maggiore, dobbiamo allontanarci da un concetto che è il concetto della Terra simmetrica e della Terra omogenea. Noi oggi sappiamo che la Terra è fatta a una distribuzione di materia intanto variabile e poi non omogenea, variabile nel tempo e poi non omogenea dal punto di vista della distribuzione geometrica. Questo ne influenza la forma e quindi per descrivere con precisione ancora maggiore la Terra dobbiamo ricorrere a un terzo concetto, a terza figura geometrica che stavolta è molto complicata ed è quella che noi chiamiamo Geoide, che voi vedete in questa immagine, codificata essenzialmente in colori. Qua dove i colori rossi significa quella che la zona relativa è rialzata fino a circa 60-80 metri rispetto all'ellissoide meglio. Il verde indica una coincidenza pressoché perfetta con l'ellissoide, il blu indica depressione rispetto all'ellissoide. Noi possiamo rendere ancora più visibile questo fatto, vedete nel caso della Terra le deviazioni del Geoide, che è questa figura media che coincide più o meno con il livello degli oceani dove c'è l'oceano e passa sotto le piattaforme continentali dove c'è la Terra ferma, questo Geoide differisce all'incirca di più o meno 100 metri rispetto al, come vi dicevo prima, qualche parte su 100.000, rispetto all'ellissoide di rotazione. Per vedere ancora meglio questa deformazione noi possiamo utilizzare la computer grafica ed esagerare queste deformazioni attraverso un procedimento che è simile a quello che usano i disegnatori quando fanno le caricature di una persona. Noi esageriamo, per così dire, i difetti della Terra di un fattore 5.000 o di un fattore 10.000 o 15.000 o 20.000 o addirittura 30.000. Questa ovviamente non è la forma della Terra così come la vediamo noi, è la forma della Terra fortemente esagerata a causa della distribuzione di massa che è irregolare sia geometricamente che cronologicamente. Questo è il Geoide che influenza ovviamente la forma del campo magnetico terrestre e il cui studio è di particolare importanza intanto per la comprensione di fenomeni geofisici ma anche per motivi di altro genere. Basti pensare a quelli strategici che non è il caso di approfondire adesso ma che sono intuitivamente importanti. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è determinare con la miglior precisione possibile la forma media della Terra e come questa forma varia nel tempo come vedremo più in là. Un'altra cosa di cui ci si occupa oggigiorno studiando la Terra è la prova sperimentale, la determinazione sperimentale della deformazione della crosta terrestre. Questa era la teoria della tettonica delle placche, volgarmente nota come la deriva dei continenti, era stata elaborata da un fisico tedesco che si chiamava Alfred Wegener che vedete in questo riquadro che aveva notato come la forma delle terre messe non fosse casuale ma facesse pensare in realtà a un periodo in cui tutte le masse continentali erano unite l'una all'altra. Oggi siamo in grado di ricostruire quello che è successo alla Terra partendo per esempio da circa 200 milioni di anni fa dal Giurassico in cui vediamo praticamente tutte le terre messe riunite in un unico enorme continente, il Pangea, circondato da questo mare gigantesco, il Pantalassa. Oggi siamo in grado di andare avanti di 10 milioni di anni con la semplice pressione di un pulsante del computer ed è quello che farò per farvi vedere l'evoluzione del profilo delle terre messe negli ultimi 200 milioni di anni. Per esempio andando avanti di 30 milioni di anni a metà del Giurassico come potete notare l'America del Nord comincia a staccarsi dall'Africa in questa zona creando il bacino del Nord Atlantico. Subito andiamo avanti nel tempo, passano ancora qualche decina di milioni di anni, guardate che circa all'inizio del Cretaceo 110-120 milioni di anni fa c'è il distacco dell'America meridionale dall'Africa, vedete i profili sono praticamente identici e si crea il bacino del Sud Atlantico. Vi invito tra l'altro a notare alcune zone che oggi non vi diventeranno familiari man mano che andiamo avanti nel tempo. Questa è l'Australia, questa è l'India, 110 milioni di anni fa ancora incollata all'isola del Madagascar, questa è quella che diventerà la penisola iberica, l'Europa e queste frattaglie qui sono quelle che diranno, daranno origine a una buona parte dell'Europa mediterranea e all'Italia. Andiamo avanti nel tempo, guardate, a un certo punto alla fine del Cretaceo l'India si stacca come vediamo dall'isola del Madagascar e prende una grande rincorsa verso Nord che durerà alcune decine di milioni di anni fino all'impatto nell'oligocene contro la piattaforma asiatica che vedete qui a creare le grandi catene montuose imalaiane. Proseguiamo, la saldatura tra l'Africa e l'Eurasia sta per perfezionarsi, guardate, in questo momento viene chiuso 10 milioni di anni fa il bacino del Mediterraneo e questa è la situazione odierna. Situazione odierna che è ben inteso e ben lungi dall'essere statica, i continenti come intiro non muoversi l'uno rispetto all'altro e noi lo determiniamo sperimentalmente. Noi oggi siamo in grado di misurare le velocità di allontanamento e di avvicinamento continentali con precisioni molto alte, precisioni dell'ordine del decimo di millimetro all'anno. E questo ci permette per esempio di determinare una mappa come questa che è una mappa dell'attività tettonica della Terra, essenzialmente dove vedete rosso sono proprio le zone di confine tra le varie piattaforme continentali, ve ne faccio vedere alcune tra le più importanti. Questa è la Pacific Plate, chiedo scusa, la piattaforma pacifica, i puntini rossi che vedete sono vulcani, questo è quello che si chiama il Ring of Fire, l'anello di fuoco che circonda appunto la placca pacifica, questa è la zona tristemente nota del Giappone che ha dato origine ad alcuni dei più grandi terremoti. Tra l'altro noi in questi ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni dei più violenti terremoti dell'era strumentale. Dopo il terremoto del 60 nel Cile, che arrivò credo a magnitudo 9.5, ci sono stati in sequenza terremoti molto potenti, a partire da quello di Sumatra 9.3, passando per uno degli ultimi terremoti in Cile, che era vicino alla magnitudo 9, e il terremoto di magnitudo 9 del Giappone che ha provocato lo tsunami spaventoso che abbiamo visto. Andando avanti, quindi il secondo studio che noi dobbiamo fare sulla Terra è come si deforma la crosta terrestre, questo per capire con la massima precisione possibile i fenomeni che avvengono sulla superficie della Terra e sperare poi in un futuro, speriamo non troppo lontano, di riuscire a capire un po' di più sui terremoti e su come affrontare questo tipo di fenomeni naturali. Un'altra cosa a cui molti astrofili sono, che è molto familiare a molti astrofili, è la rotazione, pensiamo adesso alla rotazione del cielo notturno. In effetti noi sappiamo che se mettiamo, come in questo caso, una macchina fotografica puntata verso il cielo di notte e la lasciamo aperta per un certo periodo di tempo, vediamo che le stelle descrivono degli archi attorno a un punto fisso, che è il polo, questa che vedete qui dovrebbe essere la stella polare, ora non so se questo è l'emisfero sud, dovrebbe essere l'emisfero nord, quindi questa è la stella polare, e questi archi che dimostrano che apparentemente la volta celeste ruota attorno ad un asse di rotazione. Noi oggi sappiamo che è la Terra che ruota attorno a quest'asse, che il cielo, per modo di dire, è fermo, ma la prova di questo fatto non è banale, ci è voluto uno strumento, il pendolo di Foucault, che grazie a una proprietà del pendolo, che è la conservazione del piano di oscillazione, ha permesso di dare una prova del fatto che effettivamente è la Terra che ruota attorno al proprio asse, non è il cielo che ruota attorno alla Terra. In questa immagine vedete come l'effetto del pendolo, della rotazione del piano, della rotazione apparente del piano di oscillazione del pendolo rispetto a un edificio in cui questo pendolo è montato, è massima al polo ed è minima all'equatore. Quindi la terza famiglia di fenomeni di cui noi ci occupiamo nella misura della Terra dallo spazio è proprio la rotazione terrestre. Noi sappiamo che la Terra può essere assimilata all'incirca a una trottola in rotazione, la coppia lunisolare agisce sulla deformazione della Terra imprimendo un moto, che è quello conico di precessione, che ha una semiapertura di 23 gradi e mezzo e fa sì che oggi la nostra stella polare, la direzione dell'asse terrestre istantaneo, punti verso l'alfa dell'orsa minore, che è la stella polare, ma tra circa 15.000 anni punterà verso Vega, una stella molto brillante che si vede molto bene nelle notti estive. Questo moto è dovuto a cause esterne, così come un moto molto simile, anche se molto più piccolo e con una frequenza maggiore che quella della nutazione, è dovuto appunto alla coppia lunisolare che agisce sulla deformazione equatoriale della Terra. Il problema è che non esiste un solo asse terrestre, ne esistono due. Esiste l'asse di rotazione della Terra ed esiste l'asse di figura della Terra, che è l'asse di massima inerzia. Ora non voglio andare troppo nel dettaglio, ma l'asse di massima inerzia dipende, la posizione dell'asse di massima inerzia rispetto alla superficie della Terra dipende dalla distribuzione istantanea della massa. La massa varia la propria distribuzione a causa dei fenomeni che avvengono continuamente sulla superficie terrestre e all'interno della Terra. In particolare la famiglia di fenomeni più importanti, che agisce sulla posizione istantanea dell'asse di inerzia e che significa essenzialmente la posizione istantanea dell'asse di rotazione terrestre rispetto, attenzione, alla crosta terrestre perché abbiamo questa separazione dei due assi. Uno è solidale alla crosta della Terra, l'altro è separato rispetto alla crosta della Terra e si muove apparentemente rispetto a questa. Dunque, questi due assi si inseguono l'uno rispetto all'altro e il loro moto è un'indicazione della ridistribuzione di massa che avviene in particolare sulla Terra, che avviene sulla superficie della Terra, con particolare riferimento ai fenomeni idrometeorologici. Il normale alternarsi delle stagioni, il ciclo delle acque, come quando oggi siamo in inverno, c'è più acqua all'emisfero nord che all'emisfero sud, tra sei mesi succederà esattamente l'opposto. Tutto questo sbilancia la Terra, quindi ne cambia continuamente la posizione istantanea dell'asse di inerzia e la Terra cerca di ricollocarsi rispetto all'asse di rotazione in un inseguimento perenne che è proprio il moto del polo, quello si chiama la polodia, per cui noi sappiamo che il polo, lo vedremo tra un attimo, si muove rispetto all'asse polare terrestre, si muove rispetto alla crosta terrestre, di qualche metro, fino a 10-15 metri di raggio in un anno, come vedremo tra un po'. Tutti questi fenomeni, questi parametri, sono molto complicati da osservare. Abbiamo parlato prima della deriva dei continenti, scusate, che è dell'ordine di qualche centimetro all'anno, il che vi dà un'idea della difficoltà della determinazione sperimentale di questi parametri, cioè noi dobbiamo determinare distanze intercontinentali con errore subcentimetrico, se vogliamo vedere il fenomeno in breve tempo. Per far questo servono le tecniche di geodesia spaziale che sono coordinate a livello internazionale, la prima delle quali, quella che si chiama SLR, Satellite Satellite Laser Ranging, oppure telemetria laser di satelliti, che è una tecnica molto complessa e completa, che consiste nell'inseguire, nel misurare istantaneamente la distanza di una serie di satelliti che girano attorno alla Terra, mediante l'invio di impulsi di luce laser, misurando il tempo di andata e ritorno di questi impulsi di luce. Questi sono i satelliti di questo genere, sono satelliti che vengono chiamati cannonball, sono praticamente delle palle di cannone, densissime, completamente passive, ricoperte di retro riflettori che riflettono all'indietro la luce del laser che viene mandata da una stazione a Terra. Quello che vedete in questa immagine è l'orbita dei due satelliti principali, l'Ageos 1 e l'Ageos 2, disegnate in scala rispetto alla Terra, sono satelliti a circa 6.000 km di distanza, che sono le orbite di riferimento per la determinazione sperimentale di molti parametri geodettici, tra cui la posizione istantanea del centro di massa della Terra, il geoide, eccetera. Questo è lo schema dell'osservazione, non sto a tediarvi con troppe formule, è una tecnica che ha anche molto in comune con la strumentazione astronomica, noi mandiamo degli impulsi di luce laser molto breve, della durata di qualche picco secondo, misuriamo il tempo di andata e ritorno, questa è l'equazione, il budget energetico, questo tempo si può convertire in una distanza attraverso una formula molto semplice e in questa distanza c'è l'impronta che va poi estratta matematicamente di fenomeni geodettici come quelli che vi avevo detto prima. Questo è quello che si vede, questo è un spettacolo abbastanza unico, di una collocazione di tre stazioni laser nello stesso posto all'osservatorio della Costa Azzurra in Francia, l'osservatorio de Calerne in Francia, dove in quel momento erano in funzione tre diverse stazioni laser che sparavano sullo stesso satellite. Questa è la distribuzione mondiale di stazioni di questo tipo, vi invito a notare la stazione di Matera che è attiva dal 1983 senza interruzione. Tutto viene coordinato dall'International Laser Ranging Service, questa è attualmente la più grande stazione di telemetria spaziale funzionante nel mondo, che è il Matera Laser Ranging Observatory, che vedete in un'immagine ripresa dall'antenna BLBI, basata su un telescopio che vedete attraverso la fonditura della cupola di un metro e mezzo di diametro. Questa stazione ci permette di misurare con precisione millimetrica la distanza di tutti i satelliti dotati di retroreflettori fino alla quota della Luna. Questa mi fa vedere più o meno la produzione di dati in un periodo particolare, qua è stato scelto il 2007 perché avevo questa immagine, ma la cosa interessante come vi dicevo prima è che anche sulla Luna ci sono dei riflettori lasciati dalle missioni con equipaggio umano, Apollo 11, 14 e 15 e missioni robotiche, Luna 17 e Luna 21. Questi sono i riflettori poggiati sulla superficie lunare, qua vedete Apollo 11, Apollo 14, Apollo 15 e questi sono i Luna con le impronte degli astronauti. Il più grande osservatorio dedicato alla telemetria laser lunare è l'osservatorio Apollo, voi se vede gli americani sono dei maestri sugli acronomi. Apollo sta per Apache Point Observatory Lunar Laser Ranging Operation, che è basata su un grosso telescopio, tre metri e mezzo di diametro, che permette di misurare la distanza della Luna con precisione millimetrica. La stessa cosa riusciamo a fare col telescopio di Matera, anche se abbiamo meno fotoni con cui giocare. Questo è un esempio di osservazione lunare, gli altri che vedete qui sono rumori. Tenete presente che il tempo di nato e ritorno è di oltre due secondi e mezzo e che per 10 alla 18 fotoni, cioè miliardi e miliardi di fotoni che vanno via, ne tornano giù qualche decina quando va bene. Quindi è una tecnica molto complessa che ha bisogno di di ottica ed elettronica particolarmente avanzata. La geodesia spaziale però non si basa solo sui satelliti. Noi abbiamo un'altra tecnica osservativa montuata dagli astronomi, il Very Long Baseline Interferometry, che utilizziamo al contrario di quello che fanno gli astronomi. Nell'astronomia il VLBI serve per aumentare il potere risolutivo delle singole antenne. Nella geoastronomia noi usiamo le posizioni delle quasar per determinare sperimentalmente il vettore che unisce un'antenna ad un'altra sulla superficie terrestre attraverso una formula piuttosto semplice che vedete qui. Anche in questo caso si riesce a determinare questo vettore B, la baseline, con una precisione dell'ordine del millimetro su mille chilometri o anche meglio. Questa è la rete mondiale, attualmente in funzione. La rete europea, che è particolarmente ricca di antenne. Come sapete, avrete letto in giro, c'è qualche problema per le antenne di Noto e Medicina, problemi di finanziamenti che non risparmiano neanche noi a Matera, tutti in attesa dell'entrata in funzione della grande antenna in Sardegna. Questa è l'antenna di Matera, un paraboloide di 20 metri di diametro, sullo sfondo invece vedete la cupola dell'osservatorio di telemetria laser. Però, siccome noi dobbiamo abbiamo a che fare con l'intera superficie terrestre, non è possibile pensare di costellare la Terra con centinaia di osservatori come quelli che vedete in questa immagine, i costi sarebbero proibitivi. Viene in aiuto la tecnica GPS, che è quella utilizzata anche se con un approccio diverso nei navigatori delle automobili. Il GPS sta per Global Positioning System, che è un sistema americano, basato, come vedete, su satelliti tanti, sono 24 satelliti operativi su 6 orbite differenti, che emettono dei segnali, elaborando i quali in maniera opportuna è possibile determinare la posizione istantanea di un ricevitore. Ecco, noi non utilizziamo l'approccio che utilizzano i navigatori delle automobili, noi lavoriamo non sul segnale di navigazione, come si dice, ma sulla fase della portante, una misura, diciamo, interferometrica in un certo senso, utilizzando ricevitori dedicati come quelli che vedete qui. Esiste un network gestito dall'Agenzia Spaziale Italiana, ne esistono altri gestiti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e noi lo utilizziamo soprattutto per materializzazione dei sistemi di riferimento e aggiungiamo continuamente stazioni. I dati sono disponibili gratuitamente sul sito Geodaf, che è il server geodetico dell'Agenzia Spaziale Italiana, il cui indirizzo è visibile qui. Non è particolarmente spettacolare, ma è pieno di dati, di cose interessanti. E quindi, è importante adesso presentare un attimo il Centro di Geodizia Spaziale, che è dedicato a Giuseppe Colombo, questo signore che vedete qui, un grande scienziato italiano, scomparso nel 1984, l'inventore della navigazione a Fionda, che ha portato e sta portando tante sonde interplanetarie sui loro bersagli con minimo dispendio di energia. L'inventore dell'ascensore, i satelliti al guinzaglio, la Fionda Spaziale, dicevamo prima, ed è stato colui che ha voluto che l'Italia entrasse in questa collaborazione internazionale della Geodizia Spaziale. Il centro è nato proprio per merito di Giuseppe Colombo ed è stato a lui dedicato. Questa è un'immagine dall'alto del Centro di Geodizia Spaziale, che è sito a circa 10 km est della città di Matera. Occupa un territorio di circa 4 ettari ad oggi, vedete alcuni laboratori, i laboratori di Geodizia Spaziale, l'antenna BLBI che avete visto prima, i laboratori di robotica spaziale, in questo momento vanno un po' a rilento per mancanza di finanziamenti, i laboratori di telerilevamento, quindi analisi di immagini satellitari, antenne di ricezione dati da satellite, e il Matera Laser Ranging Observatory, il quale vedete la cupola, l'avete visto prima. Un po' di risultati, scusa, il Geoide per esempio. Un risultato importante è questo numero che, se questo sembra un grafico così poco significativo, in realtà quello che vedete qui è il valore numerico della ellitticità della Terra, e l'ellitticità della Terra sta diminuendo. In pratica la Terra sta diventando un po' più sferica. In un certo senso i poli si stanno allontanando dal centro della Terra per un fatto molto semplice, molto semplice si fa per dire. Noi siamo ancora oggi, in un certo senso, uscendo dall'ultima glaciazione e quindi sta ancora oggi scomparendo il carico statico esercitato dalle calotte polari nei migliaia di anni precedenti. In pratica la Terra sta reagendo in maniera elastica, diventando un po' più sferica, e quindi quello che viene chiamato il post-glacial rebound si vede in questo numero che viene determinato proprio con lo studio delle orbite dei satelliti artificiali, in particolare dell'Ageos 1 e dell'Ageos 2 che vi ho fatto vedere prima. Noi siamo tra i pochi centri al mondo che sono in grado di determinare sperimentalmente questo numero. Un'altra cosa che vi volevo far vedere è questa animazione, praticamente impressionante, che è l'animazione del moto, guardate, questo è il centro di massa della Terra, che questo è l'anno, che si muove in un certo senso il baricentro della Terra, per dirla rozzamente, si muove in un cubo che ha in questo disegno due centimetri di spigolo. Come vedete c'è una netta componente nord-sud, ma anche varie migrazioni in altri sensi, che dipendono dagli spostamenti delle masse dovuti ai fenomeni idrometeorologici di cui vi stavo dicendo prima, che sono particolarmente importanti ed interessanti. In questo caso si vedono le velocità, per esempio queste sono velocità selezionate dalle varie piattaforme continentali determinate attraverso la tecnica BLBI, dove vedete questa frecciolina qui sotto sono un centimetro all'anno, in alcuni casi i movimenti sono dell'ordine, come nel caso della piattaforma pacifica, Ring of Fire che vi dicevo prima, dell'ordine di 7-8 centimetri all'anno. Questi sono i residui rispetto ai modelli, cioè se i modelli dei moti delle placche continentali fossero perfette, tutti questi punti avrebbero delle freccette nulle. Dove c'è una freccetta non nulla, di lunghezza non nulla, guardate in particolare il Cile, non a caso, il Giappone, la California e guarda un po' anche il Mediterraneo, vuol dire che sta succedendo qualcosa, c'è qualche cosa non modellata, c'è una deformazione in corso che dà origine poi a attività sismica come noi la conosciamo. Questo è quello che viene in Italia, vedete le frecce rispetto all'Europa, noi prendiamo come riferimento dell'Europa la stazione di Vetzel in Germania e come vedete l'Italia ha un movimento netto che testimonia dello schiacciamento in corso a causa del movimento verso nord della piattaforma africana che non si è ancora fermato. Un'altra immagine interessante è questa della rotazione terrestre. La Terra, che prima era utilizzata come orologio, la rotazione della Terra era il nostro standard di tempo, non è sufficientemente preciso come standard di tempo. Qui vedete il length of day, LOD, la lunghezza del giorno, dall'anno 73 all'anno 2003 circa, dove vedete una chiara variazione annuale dell'ordine del millisecondo e poi c'è una variazione secolare. La Terra sa, naturalmente accelera o diminuisce, anche in questo caso, come fa un ballerino quando apre o chiude le braccia, o chiedo scusa, un pattinatore quando apre o chiude le braccia nella rotazione, così fa la Terra. A seconda della distribuzione di massa va più o meno veloce, velocemente, ma in generale tende a rallentare a causa della perdita di energia del sistema indotta dalle maree. Il risultato di questo è che la Terra rallenta di circa un millisecondo al secolo e la Luna si allontana dalla Terra di circa 4 cm all'anno, così come vediamo nelle mostre cose. Questo è quello che vi avevo detto prima, il movimento del polo, del polo residuo, la scala in questo caso sono all'incirca un secondo d'arco su tutte e due gli assi, asse X e asse Y, questo punto di coordinate 0,0 è il polo internazionale e questo tracciato complicato è proprio quello che vi dicevo prima, il moto del polo, cioè il movimento dell'asse di rotazione terrestre rispetto alla superficie della Terra e questo è dovuto, come dicevo prima, proprio alla continua ridistribuzione di massa sulla Terra, è quello che si chiama il wobble di Chandler, che in alcuni casi può risentire anche di fenomeni transienti, non fenomeni lenti come quelli atmosferici, ma transienti, come in questo caso, nella prossima immagine, che è questa. Questo è un ingrandimento di quel grafico che vi ho fatto vedere prima, circa una quindicina di giorni, attorno a una data molto importante, il 26 dicembre 2004, come molti di voi ricorderanno, è stata la data del grande terremoto di Sumatra. Ecco, in quel caso, per la prima volta, noi il 26 dicembre abbiamo visto un salto piccolo, ma ben chiaro, del moto del polo, circa 7 cm, che per la prima volta è stato associato direttamente a un evento sismico di grande importanza. Questa che, per ora, a nostra conoscenza, è l'unica evidenza piuttosto convincente di un salto dell'asse polare terrestre in conseguenza di un grosso terremoto. Il futuro della geodesia, oltre a migliorare quello che noi stiamo facendo, tenendoci al passo con le tecnologie moderne, sta, per esempio, in particolare nella misura del campo gravitazionale. È ancora in orbita un satellite di grande importanza dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stato sviluppato con un importantissimo contributo nazionale. Questo satellite si chiama GOCE, Gravity and Ocean Circulation Experiment, e sta misurando, ha già fatto gran parte della missione, sta continuando a misurare il campo di gravità terrestre, il geoide, con una precisione mai raggiunta prima. Tutto questo contribuirà, insieme alle misure che stiamo già facendo da tanti anni con la geodesia spaziale, a far sì che la Terra poi venga studiata per quello che è. La Terra è un sistema complicato, è un sistema in cui tutti i sottosistemi interagiscono tra di loro. Oggi chi studia la Terra a livello geofisico non può più prescindere, diciamo l'oceanografo non può più prescindere dall'esperto in rotazione terrestre, dall'esperto in clima, dal climatologo, dal fisico dell'atmosfera, eccetera. È uno studio globale che va fatto con un approccio integrato di tutte queste tecniche, ed è importante che il nostro paese sia ormai da tanti anni all'avanguardia mondiale in questo campo. Naturalmente la speranza è che gli investimenti continuino, e anzi devo dire, la mia speranza è che gli investimenti migliorino rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, dove c'è stata una grande serie di tagli sulla ricerca, sull'attività che sono importanti invece per lo sviluppo di un paese. Io penso di potermi fermare qua, sperando di non avervi annoiato, e proverò a rispondere alle domande che mi arriveranno eventualmente attraverso il sistema chat. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Rodolfo Calanca per avermi invitato, invito che ho accettato con molto piacere. Intanto dico ciao a Riccardo Balestrieri, di cui vedo il saluto sulla finestrella della chat. Ecco qua, si dovrebbe vedere una parte, io sono nel mio studio, mi dicono che al momento non ci sono domande. Ok, vedo che non ci sono domande, mi risulta che la registrazione verrà messa poi su YouTube a disposizione di tutti, e quindi di nuovo saluto chi mi ha ascoltato finora, ringrazio di nuovo Rodolfo Calanca e saluto, do la buonanotte a tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie. Grazie.